Ma buonasera, prima di fare un nuovo video io volevo aspettare un attimino anche perché non ho tempo materiale e poi anche non ho molta voglia però siccome ogni tanto mi arrivano sempre questi feed di persone che commentano oppure mi arrivano video, insomma gente che seguo eccetera eccetera Adesso voglio fare anch'io un mini video, ovvero cosa voglio dire in questo video qua? Utilizzate gli strumenti di Youtube, ok? Allora, premettendo che ognuno su Youtube fa quel cazzo che gli pare ovviamente nel limite della legalità e di quello che vi interessa quindi se io domani volessi fare un video dove canto stonata come Gemma del Sud lo posso fare cioè poi sarò stonato o non sarò stonata non sono cazzi vostri, mi va di pubblicarlo, lo pubblico quindi se tu che stai guardando questo video ami raccontare i cazzi tuoi, mettere al bando i cazzi tuoi la tua vita quindi, il tuo privato, le persone che ami eccetera eccetera ti va di farlo, è una cosa legale perché la puoi fare ma ti danno fastidio i commenti puoi benissimo disattivare la possibilità che gli utenti di Youtube commentino puoi disattivare i mi piace e i non mi piace cioè è inutile prima fare una cosa e poi lamentarsi se io pubblico un video di qualsiasi genere e mi stanno sul cazzo i commenti li blocco i commenti, blocco la possibilità utilizzate questi cazzo di strumenti di Youtube che sono tanti, tantissimi potete fare quello che vi pare se siete così permalosi non rompete più i coglioni e utilizzate queste funzionalità che non mi sembra difficile farlo se non le bloccate, evidentemente vi piace creare la polemica e poi successivamente fare il video dove piagnucolate mi riferisco a qualcuno in particolare però in generale vedo che questa cosa la fanno in tanti prima fanno vedere i cazzi loro e poi dopo, buh, mi hanno detto questo e quello cioè ma andatevene a fanculo, ve lo dico molto apertamente andatevene a fanculo ecco, come chi continua a dire oh ma questa persona qui fa video di merda, bla 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 ecco, non seguite più neanche chi fa video di merda secondo voi, io non li seguo più purtroppo però arrivano sempre questi cazzo di feed che veramente hanno rotto un po' le palle da un certo punto di vista un conto è vedere qualcosa di interessante un conto è vedere delle cagate o comunque se non vedi la cagata leggi il commento quindi intuisci quello che ci sarà nel video quindi, ripeto utilizzate gli strumenti di Youtube se avete la permalosità che vi arriva alle stelle bloccate i commenti parlate da soli perché poi alla fine se uno non ti commenta non può farlo quindi parli da solo ti compiace di te stesso e sei a posto così insomma, basta cioè gli strumenti di Youtube ci sono cosa volete di più? se non utilizzate ci sarà un motivo eh? perché i commenti chiaramente aumentano anche le visualizzazioni eccetera 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 invece se il video resta circoscritto no? quindi fai il tuo bel video ti pavoneggi o comunque racconti le cose tue o quello che ti pare giusto e nessuno commenta è chiaro che poi anche il tuo video non avrà una grande escalation ecco beh, basta direi che ho finito e... boh, non servirà niente questo video qua però in sostanza cioè al di là del fatto che io possa considerare un video di merda o meno comunque avete proprio rotto le palle cioè, basta basta, veramente ma come cacchio utilizzate Youtube? ma vi alzate la mattina per rompere i coglioni? fondamentalmente vi alzate la mattina per rompere i coglioni io adesso faccio un video dove boh, faccio questo e quello oh no, questo commento è di merda aspetta che adesso faccio il video di risposta perché i commenti di merda non li sopporto ma andate a cagare fatevi una bella spurgata ma cazzo ma vivete alla prossima